come sempre parlare di web 3.0 ma quali sono le fasi del web qual è la fase web 1.0 web 2.0 fino ad arrivare ad oggi con la tokenizzazione del web ea per l'appunto il web 3.0 sicuramente tutti saranno concordi che il world war web abbia rivoluzionato totalmente le informazioni quindi stiamo parlando del web 1.0 con la ricerca su web e i motori di ricerca il web 2.0 come possiamo vedere dall'infografica ha rivoluzionato le interazioni abbiamo un mobile social media il blog e big data i video e le profilazioni e tantissime altre cose che ci hanno permesso di rivoluzionare per appunto le interazioni il web 3.0 al potenziare per rivoluzionare gli accordi e lo scambio di valore fatti questo nuovo web questa nuova frontiera il web 3.0 va a modificare le strutture dei dati che sono nel back end di internet e va a introdurre un livello di stato universale che molte volte incentivato dagli attori della rete con un tocco possiamo dire che l'esoscheletro di questo web 3.0 viene totalmente rappresentata da una serie di reti che conosciamo bene ovvero la blog cene o dei legge distribuiti perché c'è stato bisogno di inserire il web 3.0 perché fondamentalmente se ci pensiamo bene internet che abbiamo in questo momento tra virgolette passatemi il termine è malata nel senso che non controlliamo più i nostri dati infatti dopo oltre trent'anni dall'adozione di internet a livello attuale tutte le architetture dei dati si basano ancora su un computer autonomo dove i dati vengono archiviati gestiti in modo centrale da un server e inviati o recuperati da vari client e come ben sapete ci sono state anche delle serie tv originali ad esempio su netflix che riguardano per l'appunto questo campo le nostre interazioni e i dati che vengono lasciati sul web ogni volta che noi andiamo a interagire su internet delle copie dei nostri dati vengono per l'appunto inviati a questi server di un fornitore di servizi e cosa succede se ci pensiamo bene ogni volta che questo accade noi perdiamo il potere sui nostri dati e anche se stiamo vivendo in un mondo sempre più connesso i nostri dati sono archiviati centralmente ovvero su server locali oppure server remoti sui nostri computer dispositivi mobili e se ci pensiamo bene anche sui nostri orologi sui nostri smartwatch tv o addirittura frigoriferi di ultima generazione o lavatrici che hanno la possibilità di connettersi sul web e qua entra il gioco la problematica della fiducia ricordiamoci bene questo termine fiducia possiamo infatti porci la domanda se possiamo fidarci di quelle persone oppure di quelle istituzioni che archiviano e gestiscono i nostri dati riescono a proteggerci da qualsiasi forma che possa essere una corruzione interna o esterna attacchi hacker accidentali o meno infatti questa centralizzazione dei dati non solo sollevano il problema della sicurezza e della privacy ma producono anche diverse inefficienze grazie all'arrivo del classico www aumentato l'utilizzo di internet con dei siti web facili da navigare facili da reperire circa 10 12 anni dopo internet è diventata più matura ed è stata possibile programmare infatti abbiamo assistito come abbiamo visto come stiamo vedendo anche nell'infografica al cosiddetto web 2 che ci ha portato per la punta i social media all'e commerce ea tutte quelle piattaforme che ci permettono di apprendere la rivoluzione del web 2 è stata fondamentale per avvicinare ad esempio produttori consumatori alle informazioni dei prodotti beni e servizi questo web ci ha permesso di godere di interazioni ad esempio peer to peer su scala globale ma sempre attenzione con un intermediario che sia una piattaforma che va a funzionare da intermediario fidato tra due persone che non si conoscono e anche se queste piattaforme che sono nate sul web hanno svolto un lavoro per andare a creare un'economia peer to peer se ci pensate dettano tutte le regole e controllano tutti i dati di noi utenti con il web 3.0 abbiamo iniziato a sentire la parola block chain infatti fondamentalmente la block chain cosa fa va a rivoluzionare il modo in cui sono archiviati i nostri dati fornisce un set di dati unico è un livello di stato universale che viene gestito collettivamente da tutti i nodi della rete e va a fornire un livello di regolamentazione del valore nativo per internet totalmente in assenza di intermediari come ben sappiamo ha consentito alle transazioni peer to peer reali e tutto è iniziato con la creazione di bitcoin il web 3.0 va a rappresentare un insieme di protocolli che vengono uniti in dei leggi ha distribuiti come aveva detto come esoscheletro i dati vengono gestiti in modo collaborativo in una rete di computer peer to peer le regole della governance e della rete i dati vengono gestiti da una rete di computer peer to peer per l'appunto e le regole di gestione vengono utilizzate formalizzate all'interno del protocollo e garantite dal consenso di maggioranza di tutti i partecipanti della rete che sono attenzioni incentivati con un token equa ad esempio ritorniamo il discorso di bitcoin con un token di rete per la loro attività stiamo introducendo diverse terminologie che alcuni di voi sicuramente hanno notato come ad esempio andiamo a introdurre il andiamo introdurre la parola governance infatti questo protocollo di archiviazione dati che va a formalizzare le regole di governance della rete va a garantire che le persone che non si conoscono e l'una dell'altra possono raggiungere accordi sul web è un'altra cosa importante per quanto riguarda la sicurezza dove il tentativo di manipolazione dei dati su un server molto simile ad esempio a un sistema di protezione che possiamo avere in una villa in montagna dove la sicurezza è garantita magari da una recinzione e di un sistema di antifurti nel web 3.0 è progettato in modo tale che chi vuole manomettere chi vuole hackerare passatemi in termini chi vuole rubare nel web 3.0 per riuscirci deve entrare nel 51 per cento delle case esistenti per case intendiamo nodi e deve farlo contemporaneamente in tutto il mondo e ogni casa in questo caso è ogni nodo alla propria protezione e sistema d'allarme 3.0 ha portato anche alla creazione di daps ovvero applicazioni decentralizzate che a differenza delle applicazioni centralizzate che vengono eseguite su un singolo computer o data center le applicazioni decentralizzate vengono eseguiti su una rete peer to peer di computer quando andiamo ad utilizzare ad esempio servizi come twitter amazon facebook la pagina web che stiamo visitando andrà a chiamare un api che va a elaborare i nostri dati personali e le informazioni che sono archiviate sul loro server per visualizzare e l'identificazione l'autenticazione vengono utilizzati tramite un id utente e una password molte volte con bassi livelli di sicurezza non tanto per le password che andiamo a creare ma perché i dati che andiamo a personalizzare vengono memorizzati su server di fornitori di servizi un'applicazione decentralizzata come siamo abituati a utilizzare noi se ci pensate bene a un proprio client block cene che viene chiamato wallet infatti noi quando andiamo a interagire con le applicazioni magari su solana su terra o sui tirium apriamo e colleghiamo il nostro meta mas che il nostro wallet con un codice d'accesso che va a comunicare con una rete block chain al posto di un server dove abbiamo il nostro portafoglio wallet che va a gestire la coppia di chiave pubblica e privata e l'indirizzo block chain per andare a fornire la nostra identità all'interno dei rodi dove su interno lo smart contract fungerà ad esempio come feed sia all'interno che all'esterno della rete per andare a garantire la connessione e la sicurezza